Si chiama Angela Curiale e ci farà ascoltare, non ti scordare di me, è tu che mi hai preso il cuore. Stringo, stringo, Francesco, sì. Angela Curiale, un applauso! Stringo, stringo, Francesco, sì. 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 Stringo, stringo, énervano. Tu, che ha mai preso il cuore, sarai bravo, il solo cuore. Tu, che ha mai preso il cuore, sarai bravo, il solo cuore. Tu, che ha mai preso il cuore, sarai bravo, il solo cuore. Tu, che ha mai preso il cuore, sarai bravo, il solo cuore. Tu, che ha mai preso il cuore. Tu, che ha mai preso il cuore, sarai bravo. Tu, che ha mai preso il cuore. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Ogni anni svolge un'intensa attività concertistica in tutta la Sicilia, sia come solista che come componente di vari ensemble, ha preso parte a vari concorsi di perfezionamento ottenendo calorosi consensi, ha partecipato nell'ambito della stagione artistica Taorminarte 2007 alla realizzazione dell'opera lirica Medea di Cherubini, ha tenuto diverse lezioni concerto per gli allievi di istituti superiori statali di Catania. Nel settembre 2008, per conto del Teatro Massimo Bellini di Catania, ha preso parte al Bellini's Day, inoltre una dei fondatori della corale polifonica Sandaga dal carcere, della quale è anche maestro collaboratore, Angela Curiale, tutto questo. Gloria consegna la targa all'assessore Scannella, che a sua volta lo consegna ad Angela Curiale. Grazie a tutti. Una foto di Bucco, vicini a Ticloria anche tu. Grazie, grazie a tutti, ancora complimenti Angela. Grazie, vorrei ringraziare tutti quanti per questo premio che è veramente inaspettato devo dire, sono stata molto felice di riceverlo, veramente. E noi siamo felicissimi di averti consegnato un premio così importante. Grazie, grazie a te, grazie a tutti, grazie ancora. Grazie professore.